Sono Cristina Maccari, faccio parte della segreteria CISL Torino e Canavese e rappresento la CISL nell'ambito del Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Torino. Tra le varie attività di cui si occupa il Comitato per l'imprenditoria femminile c'è anche una serie importante di iniziative rivolte al contrasto alla violenza contro le donne. Proprio per come è composto il Comitato per l'imprenditoria femminile, cioè il Comitato rappresenta un microcosmo all'interno del quale ci sono le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, le associazioni sindacali, il mondo professionale, il mondo manageriale e anche delle banche, rappresenta davvero un luogo di sintesi in cui possono essere valorizzate le singole esperienze. Quindi siamo partiti di lì per definire un percorso comune che riguarda la stesura di un libro rosso che ha proprio lo scopo di raccogliere tutte le esperienze che vengono realizzate singolarmente, quindi già in autonomia dalle associazioni che fanno parte del CIF, vengono raccolte e vengono valorizzate, vengono quindi portate a fattor comune. Questo è un aspetto assolutamente importante perché dà l'idea di quanto le iniziative che vengono svolte sul territorio, se messe tutte insieme e portate a conoscenza anche all'esterno, possono rappresentare ancora meglio uno strumento per combattere la violenza contro le donne. Quindi penso che la motivazione che muove tutti coloro che fanno parte del CIF in queste iniziative quotidianamente, ma anche nella stesura di questo libro rosso, sia davvero un elemento che valorizza un lavoro così importante come quello del contrasto alla violenza contro le donne.